Li vedete là fuori, quelli purtroppo sono purple e orange E praticamente mi attaccheranno la base non appena ci riusciranno Io posso provare a spararli ma mi pare che questo coso non funzioni Esatto, purtroppo non funziona Però posso farmi assolutamente una spada E già vedete delle cose qua nell'inventario Tutte queste cose che vedete sono delle protezioni per la casa Queste protezioni le dobbiamo mettere davanti alla casa E dovremmo circondarla anche se in realtà qua in parte non è un problema Il problema secondo me è più che altro proprio qua E fra poco questi qua arriveranno e quando arriveranno dobbiamo tenerci super super alla larga da loro Chiaramente qua io metto queste cose non fanno molto male Ma questa qua ti toglie praticamente quasi tutta la vita E infatti dobbiamo stare stra attenti perché potremmo sabotarci a nostra insaputa Cioè nel senso non va bene Aya vedete che poi fa pure male Possiamo effettivamente Aya proteggerci così Ah raga però mi sto facendo malissimo eh Ok possiamo metterne altre Sentite facciamo così Mettiamoci proprio tutte queste Tanto ne abbiamo un sacco Non è un problema Secondo me questi qua moriranno immediatamente Appena appena la vedono In realtà potremmo effettivamente avere un problema Cioè quello di entrare nella casa effettivamente ora che ci penso Perché più ci proviamo Cioè nel senso adesso raga Ditemi voi come caspita posso entrare io nella casa Quando queste cose probabilmente mi toglieranno tutta la vita Io ho paura che se ci vado sopra Cioè praticamente mi toglie metà vita questa cosa Perché tecnicamente questa è la nederite spikes Che praticamente sono queste punte di nederite che escono dal terreno Purtroppo iniziano ad attaccarci Purtroppo 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 E quindi noi direi di Fia Assolutamente per carità Gesualda Franchetta Santa Maria Angela Eeeh raga Siamo stati stra efficientissimi Oh mio dio che figata Oh bene Sono contento Però ho come l'impressione che questa sia solo la prima wave Ci potrebbe essere anche una seconda wave Cerchiamo di difenderci Pessima idea Ottima Pessima Pessima Che ottima Pessima idea Pessimissima idea Raga mi sono auto ucciso Ho recuperato tutte le cose Però mannaggia mannaggiona No 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 Mi stanno di nuovo seguendo Eeeh Qui Bene Perfetto Ciao morite Ciao 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 mori Come state? Tutto bene? Bene Mi fa proprio piacere Dovete morire Perché mi avete ucciso Due volte Cioè no una volta Però io vi ho ucciso due volte Io ho vinto di più Perché queste cose sono veramente potentissime Senza di queste non avrei Mai vinto Cioè nel senso Scrivetemi voi nei commenti Se ho vinto Iscrivetevi al canale Lasciate like E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao